«Le beccazze», disse Mathieu d'Endolan, «mi fanno tornare in mente un tremendo episodio di guerra. Conoscerete le mie proprietà nei paraggi di Cormail. Io ero lì quando arrivarono i prussiani. La mia vicina era una specie di pazza, resa folle dai colpi della sventura. Aveva perduto all'età di 25 anni e in un solo mese padre, marito e figlio letto appena nato. Quando la morte entra in una casa, ci torna quasi subito, come se avesse imparato la strada. La povera donna, annientata dal dolore, si mise a letto. Il suo delirio durò sei settimane. Alla crisi acuta successe una sorta di calma apparente, una stanchezza inerte. Rimaneva immobile senza far niente. Mangiava appena, muoveva soltanto gli occhi. Tutte le volte che cercavano di farla alzare, si metteva a gridare come se volessero ucciderla. Ecco perché la lasciavano sempre a letto, facendole ascendere solo per le pulizie e per rivoltare il materasso. C'era accanto a lei una vecchia serva, che ogni tanto la faceva bere o la costringeva a masticare un pezzetto di carne fredda. Che cosa stava accadendo in quell'animo esulcerato? Nessuno lo seppe mai. Pensava ai suoi morti? O si perdeva in fantasie tristi senza precisi ricordi? O la sua mente sconvolta era immobile, come un'acqua stagnante. Rimase così per quindici anni, prigioniera della sua inerzia. Venne la guerra. I prussiani entrarono a Cormel ai primi di dicembre. Lo ricordo come se fosse ieri. Faceva un freddo da spaccare le pietre. E io ero immobilizzato dalla gotta in una poltrona, quando di risuonare il loro passo ritmato e pesante. Li vidi passare dalla finestra. Era una sfilata interminabile. Tutti uguali, col tipico movimento degli automi. Poi i comandanti distribuirono i loro uomini tra le case della cittadina. A me ne toccarono diciassette. Alla mia vicina, la pazza, dodici. Tra cui un comandante. Un vero soldataccio, burbero e violento. I primi giorni tutto filò liscio. All'ufficiale della casa accanto avevano detto che la signora era ammalata. E lui non se ne preoccupò. Poi fu irritato dal fatto che quella donna non si faceva mai vedere. Chiese che male avesse. Egli fu risposto che la sua ospite era a letto da quindici anni in conseguenza di strazianti dolori. Non lo credette. Evidentemente pensò che la povera pazza non volesse alzarsi per orgoglio, per non vedere i prussiani, per non essere costretta a parlare e a stare in contatto con loro. Pretese ad essere ricevuto e lo fecero entrare nella stanza. Parlò con un tono autoritario. Ti preco, signora, di alzarti e scentere per farti fetere. Lei gli rivolse uno sguardo incerto e vuoto. Non rispose. Lui aggiunse, non toglierò insolenze. Se non ti alzi di buona foglia, trofferò io il modo di farti camminare ta sola. La donna non fece un gesto, ora stò immobile come se non lo vedesse. Lui si adirò, scambiando quel pacato silenzio per un segno di supremo disprezzo, e disse, «Se domani non scenti!» E uscì. Il giorno dopo la vecchia serva, impaurita, cercò di vestirla, ma la pazza cominciò a urlare e di vincolarsi. L'ufficiale salì subito, e la domestica gli si gettò ai piedi esclamando, «Non vuole, signore, non vuole! Perdonatela, è tanto infelice!» L'ufficiale era imbarazzato. Nonostante l'ira, non aveva il coraggio di trascinarla giù dal letto, ricorrendo ai suoi uomini. Poi si mise a ridere, e dette qualche ordine in tedesco. Poco dopo si videro alcuni soldati con un materasso, come se trasportassero un ferito. In quel giaciglio, che non era stato fatto, se ne stava tranquilla e sempre silenziosa la pazza, indifferente a tutto, purché la lasciassero in pace. Per ultimo veniva un soldato, che portava un fagotto di indumenti da donna. «Staremo a fetere, se non puoi festirti ta sola e fare una passeggiatina!» si disse l'ufficiale fregandosi le mani. Il corteo fu visto allontanarsi verso la foresta di Mouville. Due ore dopo, i soldati fecero ritorno da soli. Nessuno li vide più la pazza. Che ne avevano fatto? Dove l'avevano portata? Non lo si seppe? Mai. Nevicava giorno e notte. Boschi e campagne erano sepolti sotto un lenzuolo di spuma ghiacciata. I lupi venivano a urlare sino ai nostri usci. Il pensiero di quella donna sperduta non mi lasciava mai. Feci molti tentativi presso le autorità prussiane per averne notizia. Per poco non venni fucilato. Tornò la primavera. Le truppe di occupazione andarono via. La casa della vicina continuava a rimanere chiusa e nei viali crescevano le erbacce. La vecchia serva era morta durante l'inverno. Nessuno si occupava più di quella storia. Non c'ero che io a ripensarci di continuo. Che ne era stato di quella donna? Era riuscita a scappare nei boschi? Era stata ritrovata da qualche parte e ricoverata in un ospedale senza che fossero riusciti a farla parlare? Niente, alleviava i miei dubbi, ma il tempo a poco a poco li placò. Le beccacce passarono a stormi nell'autunno seguente e poiché la gotta mi dava un po' di requie, mi trascinai sino alla foresta. Avevo già ucciso quattro o cinque uccelli dal lungo becco, quando ne colpì uno che sparì in una fossa piena di frasche. Per raccogliere l'uccello fui costretto a scendervi. Lo trovai accanto a un teschio. Improvvisamente il ricordo della demente mi percosse il petto come un pugno. Chissà quant'altra gente era morta in quel bosco durante quell'anno funesto. Ma senza un vero motivo ero più che certo che quella fosse la testa della povera pazza. Di colpo compresi, e indovinai tutto. L'avevano abbandonata su quel materasso nella foresta gelida e deserta. E lei, secondo la sua fissazione, si era lasciata morire sotto la spessa lanugine della neve, senza muovere un dito. Poi i lupi l'avevano divorata. E gli uccelli avevano fatto un nido con la lana del materasso sbrindellato. Conservo ancora quel triste teschio. E mi auguro che i nostri figli non vedano mai più guerre. Grazie. 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 Grazie.